per ragazzi continuiamo con la terza parte del del quarto atto ragazzi siamo giunti qua nel 2010 e ha affermato di non essere solo chi ci sta però ma che c'è quello che sta sparando ragazzi c'è qualcosa qui ragazzi aspettate un po' di qua eccola qua ottimo che diavolo è e a che cazzo stanno sparando ah quelle sa come che c'erano no è facile da capire chi è che spara chi è oddio no è la bet quella del nostro tempo che cazzo oh mio dio che impiccio eccoci non si torna indietro jack ma è andata nel futuro nel passato poi dopo la amaralla mi ha spedita nel futuro che ci fa nel passato e io non ero l'unica fermo io l'ho seguito ha impostato la macchina di will sul 1999 il primo punto d'uscita possibile ehi 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 tutto ok tutto ok tutto ok ecco perché sapeva tutto l'hai spinto tu a creare la contromisura e sei rimasta qui da allora per 11 anni porco cane ragazzi perché non sei tornata dobbiamo prepararci non ci resta molto tempo e lega ha fatto il divinto bene era cambiata il suo sguardo sembrava meno lucido mi stava nascondendo qualcosa lo faceva sempre cosa credi sia andato distrutto la speranza perché però perché così all'improvviso perché 11 anni porco cane ragazzi che cosa brutta che deve essere però non voglio neanche immaginarla questa è una cosa terribile è andata nel futuro dal futuro il picciato è tornato indietro è tornata indietro grazie a cosa? si apre la porta allora dov'è Will? e dov'è la contromisura? la contromisura è nel laboratorio di William dove l'ha costruita? allora dobbiamo andare lì sì era questo il piano meglio però noi sono passati che ne sono tre minuti da quando siamo qui per lei sono 11 anni basta aprire questa noi tre minuti fa l'abbiamo vista oddio che bordello ragazzi le mie scorte sono di sopra ci serviranno ci sono troppe cose che non sai che non hai mai visto mbè io mi ero rassegnata all'idea che non saresti venuto devo sapere se posso contare su di te una volta ti ho detto che il nostro destino è già segnato e lo credo ancora con tutta me stessa ma ho paura di ciò che potrebbe significare mbè non deve essere stata un'esperienza bellissima devi equipaggiarti prendi quello che vuoi il resto finirà dritto nel fiume come tutto quello che ho portato qui mi sembra un po' drastico il mio tempo qui è finito che cazzo sta sto coso fammi sapere quando sei pronto beh sei troppo tragica su mamma mia non esca a trovare sto cazzo di cosa sta qui sta ma non esca a capire dove dai non fa niente andiamo prendiamo tutto quello che ci serve ok la contromisura è nel laboratorio di Will la troviamo e poi? la riportiamo qui attiviamo la macchina torniamo nel futuro e la usiamo per fermare la frattura e il piano è sempre stato questo il piano è ancora questo sì quando vuoi io sono pronta ecco sto solo a capire cosa serve io ho visto le munizioni ho visto o sbaglio ecco lì andiamo puraccio sta fa bene quando sei entrata nella macchina volevo seguirti ma non sapevo dove fossi né come trovarti sei venuto qui è questo che conta hai seguito il piano quel che ti è successo lo cambieremo no sistemeremo tutto no possiamo cancellare continui a non capire non si può cambiare qualsiasi cosa tu faccia ogni tassello tornerà sempre al suo posto ho già provato ancora e ancora non posso star qui senza far nulla devi rassegnarti Jack non c'è niente da fare mamma mia io l'ho vista la fine del tempo è lì che mi ha inviata Sofia io c'ero ho combattuto questa guerra tutta la vita e ho assistito al nostro fallimento ho visto a cosa porterà ma ora non lo so più non so se possiamo farcela moriremo scoprendolo ho ho u u u u u u